Palazzo Arese Borromeo è un monumento di grandissimo pregio, in cui cultura, bellezza e ricchezza si fondono, sempre stemperate dall'ironia. All'inizio il palazzo appare nella sua facciata sobrio ed austero, invece al suo interno si rivela fastoso in un tripudio di bellissimi affreschi che decorano tutte le sale del palazzo e magnifici giardini all'italiana. L'attuale sistemazione di Palazzo Arese Borromeo risale in gran parte alla metà del XVII secolo, quando il conte Bartolomeo III Arese decise di edificare, su un preesistente edificio, un grandioso palazzo ai margini del vecchio borgo Brianteo. La struttura dell'edificio, incentrata sulla Corte d'Onore, è caratterizzata dalla loggia coperta al primo piano e vanta ambienti affrescati da pittori del Seicento milanese come Ercole Procaccini il Giovane e Giovanni Stefano Doneda, detto il Montalto. Autori, questi ultimi, dei grandi affreschi della Sala dei Fasti Romani. Il piano terra è caratterizzato da soffitti a volta, con cornici a stucco e medaglioni affrescati a tema mitologico, tra cui l'apparizione del carro solare dell'Aurora, eseguito dal Montalto. Il parco storico è armonizzato dai viali prospettici che definiscono il giardino all'italiana con statue e fontane. Ora il palazzo, gestito dal comune di Cesano Maderno, è diventato un luogo polivalente in cui vengono organizzate attività didattiche multidisciplinari, mostre, convegni e concerti, grazie anche al recente intervento di recupero e restauro conservativo delle ex scuderie.